Ho bisogno di una bella signora che venga a fare l'estrazione. Un applauso alla Beatrice, che sarà la responsabile di chi vince. Dopo potete ringraziarla, dopo. Uno, poi un altro domani. Certo, ce l'avete tutti per i numerini, sì? C'è una musichina tipo quella dei pacchi, non lo so. È fra il 5 e il 10. Ci c'è il numero fra il 5 e il 10? Se no, no. Rete! Vieni qua! Bon sci, bon sci, bon 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 sci, bon sci, bon 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 Analizzando essa cadea ereditaria Quero mi livrar dessa situazione precaria Vorrei che a consegnargli lo fosse Gianfranco Quero mi livrar dessa situazione precaria Grazie Bea. A consegnare il premio, niente po' di meno, del titolare, socio fondatore Gianfranco Mili. Grazie Gianfranco, sì, domani ce ne è un altro. Ci puoi dire qualcosa? No. Bon sci, bon sci, bon 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 Io niente, ringrazio e comprerò più estintori. Bravo! È per questo si è fatto! Grazie a tutti! Grazie!